E' l'auto più venduta in Italia e anche la più apprezzata, avete capito, è la Panda. Oggi vi presentiamo però questo modello davvero molto particolare, scopriamola meglio e vediamo perché acquistarla. Ma prima vi ricordo che se vi iscrivete al nostro canale YouTube sarete sempre tra i primi ad accedere a tutte le nostre offerte. Iniziamo! E avrete sicuramente già intuito l'allestimento proprio dai fanali e da come è strutturato l'avantreno. E' una Panda Cross dove è stata immatricolata ad agosto del 2020 ed è unico proprietario. I cerchi sono da 15 pollici con pneumatici all season della Pirelli che praticamente hanno circa 2000 km con taglio pioggia. Sono stati sostituiti davvero da poco tempo. I cerchi sono in acciaio quindi avete tutto il vantaggio di un cerchio d'acciaio in caso di buche ma con queste buche che praticamente sembrano dei cerchi in lega, sono dei cerchi style. Molto belle anche le calotte che sono in tinta con la carrozzeria e il colore. E' proprio una caratteristica di questa Panda Cross che è una launch edition, una versione speciale con questo verde ruggiata. Qui anche il beige cross nella parte sottostante che va comunque a conferire quella versione fuoristrada anche se è una trazione anteriore. Il motore è un 1000 Hybrid o meglio mild Hybrid. E' molto bella anche la carrozzeria per quanto riguarda l'estetica perché non abbiamo rilevato nessun danno se non una piccola cosa nell'avantreno dopo nel set fotografico ve lo faremo presente. Molto belle anche le barre portapacco ma più che belle sono utili. E entriamo un po' nel vivo della vettura. Partiamo dal retro. I sedili sono neri con le cuciture anche qui che riprendono il colore della carrozzeria e rifiniture in ecopelle ma la cosa più importante è che è omologata per 5 posti e con attacchi Isofix. Per quanto riguarda l'equipaggiamento mi piace innanzitutto la trama dei sedili anteriori che è in rilievo anche qui come nei sedili posteriori e il beige Panda che è ricamato. Una vera chicca che la rende appunto un'auto abbastanza particolare e anche speciale una launch edition. Il motore è poi gestito dal cambio manuale voglio farvi vedere che è a 6 marce e questo vi consente dei notevoli risparmi per quanto riguarda il carburante poi dopo l'andremo a provare vi parlerò più o meno di quali sono i risparmi ma anche delle basse emissioni. Vetri elettrici anteriori e con la gestione della climatizzazione automatica il sistema Uconnect dove con il display poter gestire la parte dell'infotainment anche il bluetooth, possibile poi anche grazie ai comandi vocali e i comandi qui sullo sterzo per attaccare e per rispondere al telefono. Mi piace anche l'idea di aver messo una USP qui in alto. Adesso non ci rimane che metterla in moto, andarla a testare ma già vi preannuncio che ha superato alla grande il test dei 150 punti di controllo che seguiamo su ogni auto e che se non lo superano le nostre auto vengono scartate. Mettiamole in moto. Mentre testiamo l'accensione verifichiamo anche che l'aria condizionata funzioni alla grande in questa giornata davvero calda di prima estate si fa apprezzare davvero molto. Adesso la testeremo in accelerazione, testeremo anche la frenata e vedremo un po' come si comporta. Come vi dicevo il motore è questo 1000 tricilindrico da 69 cavalli adatto anche per neopatentati che viene poi supportato da questa batteria che è posizionata sotto al sedile del guidatore e quindi la rende una mild hybrid che consente una riduzione a circa il 30% di emissioni quindi un'auto green non solo per il colore ma anche green in quanto la Fiat ha partecipato a un progetto che diversi materiali sono appunto derivanti da plastica quindi viene riciclata dalla plastica per produrre alcune parti di questa vettura. Ci troviamo adesso sul rettilineo, testiamola un po' in accelerazione. il tricilindrico è ovviamente leggermente rumoroso 75, troviamo la frenata ottima direi non c'è stato nessuno sbandamento né a destra né a sinistra. Allora l'abbiamo portata fino a 5.500 giri e non c'è stato nessun calo di prestazioni o dei vuoti di carburazione. Guardando anche dietro non ci sono problemi di fumo quindi a livello di valvo il motore tutto ciò che concerne la meccanica di motore ci risulta perfetta anche perché tutte le manutenzioni sono state eseguite in rete ufficiale tanto più perché la proprietaria ha acquistato un'estensione di garanzia. L'ultimo tagliando è stato eseguito proprio pochissimi chilometri fa adesso l'auto ha circa 60.000 chilometri quindi circa 1.000-2.000 chilometri fa è stato eseguito il tagliando. Verrà consegnata immediatamente in prodotto da consegna, l'auto è anche finanziabile ed è possibile acquistare anche un ulteriore anno di garanzia ma questo ve lo spiegheremo quando verrete a trovarci vi invito a cliccare nel link sotto per vedere il prezzo, le foto e anche dove ci troviamo i numeri telefono per fissare un appuntamento e ovviamente un test drive vi aspettiamo!